Cos'è arrivato? Apri! Apri! Cos'è arrivato? E' pesante! E' pesante! E' pesante! Da dove arriva? Arrivano i nonni! Il pacco che ci hanno mandato i nonni! Mirko, sei felice? Sì! E' agiliato! E' viva! E' viva! Apriamo? Apriamo? Ok! E dai! 3 2 1 Via! Enea! Sei contento? Apri apri! Allora! Vediamo un po' Vediamo un po' che cosa c'è C'è un apri apri Vediamo! Vediamo! Guarda! Pure quello è curioso! Vediamo un po' che dice! Vediamo un po' che ci ha scritto qui! Vediamo un po' che ci ha scritto! nonna vi vogliamo bene apri apri quante cose wow aspetta ad aprire aspetta vediamo dove possiamo iniziare allora da dove iniziamo dei regali dei regali guarda allora qua c'è scritto che perenea questo è il tuo tieni è il tuo puoi aprire perenea mirko michele daniele ah per tutti chi apre è arrivata l'abbè fatta che cos'è un giubbino vediamo vai bellissima wow un calabrone tieni pure questo è il tuo vieni tieni vai vai apri wow bellissima verenea anche questo è per te ma quante cose vai apri 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 grazie mimma grazie simba grazie simba grazie simba per tutti noi questo suppongo che sia per te vai nuovo che mi sei fatto questo è il mio te lo manda alessio ciao che cos'è wow la tua prima tuta che bella mi що Guarda come è bello questo, e anche per te è uguale, guarda pure Mirko c'è il giubbino uguale, due mosche, no questo è per Enea, questo è dei nonni, per il regalo dei nonni, guarda, le bolle, Mirko, i nonni hanno mandato gli animali, è bellissimo, Simba, è questo, guarda, un ippopotamo, Simba, ma non è Simba, è una tigre, è bella, è la mamma di Simba, no è una tigre, la mamma di Simba è una leonesa, Mirko questo è sempre per te, dai gli zii, vieni, è nonna, no questo è da zia, ah zia, che cos'è? aspetta, 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 ma daglielo una, faglielo vedere, faglielo vedere, ma faglielo... cambiamo inquadrature ogni secondo, comunque andiamo avanti bellissime non vale che c'è un'altra bellissime, viva! adesso andate a correre tutte e due così possiamo andare a fare palestra, grazie! per Enea, grandissimo questo! le scalpe! papà, le scalpe! anche tu le scalpe! guarda! Enea, non è finito! lo mettiamo dopo! Enea! non è finito! Willy, ma adesso devi passare! spostati Willy! ancora non c'è niente, non c'è niente per te, mi sa! papà! che cos'è? guarda! è qui! è qua! 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 così giochiamo a prendere! papà! Willy sta aspettando! dopo dopo dopo! adesso abbiamo altri legali! Willy! poi abbiamo altri legali! a Mirko! wow! è niente! grazie! ciao! grazie! poi ce ne sono ancora i regali! questo me l'hanno mandato i nonni! è per me! questo è per mamma! vediamo che cos'è! per mamma! che cos'è? una maglietta! grazie! questo è per me! per Mirko! è bellissimo! è di mamma! è di mamma! grazie! un altro regalo! wow! bellissimo! Mirko! quante cose! ci stiamo rifacendo tutto il guardarobbo! e qui ci sono altri due! sempre per Mirko! uno! uno! questo è di Enea! e questo è di Mirko! Mirko! tu lo apro io eh! questo è di Mirko! wow! eccolo qua! che c'è scritto? ecco! ok! bello! vedi il tuo com'è! fammelo vedere dopo eh! qui invece abbiamo un regalo! aspetta! c'è un altro di Enea! c'è un altro di Enea! questo lo mandano i suoceri! vai! vediamo! vediamo i suoceri che fanno! per il genero! per il miglior genero che hanno! il miglior genero! del resto sei l'unico! e oggi! 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 guarda! guarda i suoi! una bella Camilla! aspetta che non si vede! vieni! c'è il prezzo! 69 euro! c'è il prezzo! c'è il prezzo! c'è il prezzo! eccola qua! bella! grazie! 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 grazie tu! vieni! la provo subito! vieni! qua c'è un altro giochino! per te ci sono le batterie! quindi deduco! vai! vedi qua! pure questo! c'è scritto! guarda! guarda! come hanno scritto i nonni! hanno scritto! api! 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 i nonni! i nonni! e dai! apri! il regalo! devi aprire! i nonni! che? la macchina dei carabinieri te l'è comandata! la macchina dei carabinieri! come nonno! come nonno! la macchina come nonno! popi! popi! la macchina come nonno! di nonno! adesso guarda in giro come te! guardala! oh! 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 vi faccio vedere il resto del pacco! adesso c'è tutta roba da mangiare però prima faccio vedere una cosa! sono davvero contenta di questo pacchetto che mi è arrivato a casa! ed è da parte di una di voi che mi segue! con tanto affetto mi ha contattato perché voleva fare un regalino ad Enel Mirko! lei si chiama Anna Maria! viene dalla Sicilia! mi scrive spesso! mi manda sempre tante belle mail! mi ha voluto fare questo regalino! io non vedevo l'ora di averlo! anche se già l'ho visto! l'ho visto via whatsapp! si! popi! si! popi! ha visto via whatsapp! però sono contenta di farlo vedere anche qua! ti ringrazio anche pubblicamente! grazie! sei stata davvero gentilissima! ha fatto delle tovagliette! le ha ricamate! grazie! grazie mille! le ha ricamate le stesse! questa ne ha fatta una per Enea! e quest'altra per Mirko! ma non solo! ne ha fatta una anche per mia nipote! davvero! sei una ragazza dolcissima! ecco! guardate come sono belle! bravissima! guarda! è per te! vieni! vieni! ciao Anna! grazie! grazie! mandale un bacino! grazie! grazie! Anna! sei stata gentilissima! grazie! che qua viene! bella! ok! ora! andiamo al resto! vediamo che cosa mi hanno mandato i miei genitori! come sono qui? da buona calabria! caffè gugliermo e il caffè che facendo! ahahahah! poi vediamo! questo ormai lo sapete il mio riso integrale preferito che qua non c'è sta! questa è stata una richiesta proprio esplicita! volevamo questa cosa! aspettate apro così faccio vedere! il liquore alla licurizia! grazie! 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 ecco qua! questo va direttamente nel congelatore! si si! e ovviamente made in calabria! grazie! direttamente dall'Eurospin! com'è? i biscottini qua! preferiti di Enea! i biscotti! i biscotti! poi! sempre! Eurospin! due pacchi qua di... di taglini mais e riso! questo li mangia adesso anche tranquillamente anche Mirko! poi! lo zucchero a granella! perché almeno... alcuni mi hanno detto che... lo trovate tipo da Real! io Real non ce l'ho praticamente a due passi! molto lontano! ce l'ha al DEM! non DEM! ma al Natura! ma costa tantissimo! quindi... i miei si sono ricordati di questa cosa! mi hanno messo gli zuccherini! e soprattutto adesso con la Pasqua questi... cosini qui ci stanno! poi altre cose che io qua non trovo! e che ne ho fatto richiesta! è il lievito istantaneo! per i dolci! due! lo zafferano! un'altra mia richiesta! caramelle all'anice! caramelline all'anice! poi... vabbè questa è la... ma questa ce l'avevamo già! questo è i confetti di mio nipote! ma già ce l'avevamo arrivati! poi... cosa c'è qua? questa qua è una marmellata! questa è la fatta mia mamma! vediamo di che cos'è! marmellate di... arancia rossa! perfetto! e poi ce n'è un altro che è... tra una... mostarda penso! piccola com'è! tra una mostarda! si! la mostarda! ok! poi... vabbè! e qui c'è una cosa che... non vi posso fare propriamente vedere ma... ogni italiano all'estero sa! e qui c'è un piccolo... necessaire di alcune medicine e... che qui non... non si trovano! una su tutte questa ve la faccio vedere perché qui non... non si usa proprio! non ce l'hanno proprio come concetto! ed è questa! abbiamo questo! poi... ci sono delle cose che avevo... ci sono dei libri... e ne intanto... sta giocando con... eh... la macchinina... dei carabinieri! poi ci sono... questi che... li avevo chiesti io ai miei... per quando saremmo... arrivati per i bambini... i miei non consumando... pastina! ovviamente me l'hanno... mandate qua! e poi ci sono dei... dei libri... eh... che mi ero... ordinata da Amazon... ne avevo fatto arrivare... appunto... all'indirizzo di casa... perché... eh... ordinandoli... su Amazon Italia... qui... eh... paghiamo tantissimo... sia le spese di spedizione... ma poi loro maggiorano il prezzo... su ogni... su ogni libro... e quindi ho detto... vabbè... me li faccio arrivare... giù a casa... e poi me li porto... e quindi... i miei me li hanno messi qua nel... nel pacco... allora... uno è questo... che ne ho sentito parlare tantissimo... eh... sei quel che mangi... è un bel tomone... ovviamente queste ne sono... letture... cioè... prendi il libro... te lo leggi tutto... vai a... a leggerti alcuni... capitoli... eh... secondo me questo è molto interessante... perché ne ho sentito parlare... tantissimo... e se andrà ad unire... agli altri che... che ho... tipo... a... questo... allora... l'altro è di... è un libro di... Roberta Cavallo... che è un'educatrice... si occupa... appunto di noi genitori... se non la conoscete... vi invito a conoscerla... eh... lei ha una pagina Instagram... dove fa... fa molti... fa molti video... questo è il suo secondo libro... che compro io... questo è... smettila di fare capricci... ovviamente il titolo è abbastanza... ehm... provocatorio... perché appunto... i capricci in realtà... non sono capricci... eh... io di lei ho... ehm... smettila di programmare tuo figlio... un libro... illuminante... eh... ho voluto prendere anche questo qui... che spesso su... su Amazon... non... non è neanche disponibile... e poi l'ultimo... e questo riguarda... ahimè... il tedesco... ed è la grammatica attiva... della lingua tedesca... sarebbe il mio secondo libro di grammatica... è ovviamente scritto in italiano... perché è importante capire in italiano... in realtà quello che si sta dicendo... il mio primo libro... perché alcuni di voi me l'avevano chiesto... ehm... Noi Tips... della... di Fino... la signora che fa anche i video su... su YouTube... tedesco... tedesco per tutti... su Amazon ho visto che questo era... tra tanti quelli... consigliati... è costata una fucilata... perché mi pare intorno ai 22... infatti il prezzo pieno è 25 euro... ehm... insomma... e vedremo... quindi ci sono... esercizi... soluzioni... quindi questo è tutto quanto... il pacco che è arrivato... adesso vado a recuperarli di là... perché stanno giocando con la macchinina... andiamo a vedere... non avete idea di quello che c'è... qui intorno... anzi potreste... tranquillamente... avercela... il delirio... il delirio... va bene... è troppo bello quando arrivano queste cose... vediamo dove sono... Willy... te l'avevo detto che non c'era niente per te... nonni... vi siete dimenticati di Willy... non si fa... non si fa... beh... facciamo vedere come funziona questa macchina... la macchina dei nonni... del nonno... è velocissima... dei carabinieri come il nonno... si... grazie nonno... nonno... grazie nonno... che bellissima... grazie a tutti quanti... grazie a... zia... mimma... nonni... tutti quanti... zia... l'alessa... tutti... un bacio... e alla prossima... un bacione... e grazie ad Anna... grazie ad Anna... un bacio grande... Enea dove sei? vieni... vieni... vieni a salutare... corri corri... vieni... la Befana... questa ce l'ha mandata mia mamma perché... qui non ci stanno le Befane... la nostra è la notte... la Befana... saluta... ciao... chi è sta Befana? e ne è perplesso... grazie nonna... un bacio... ciao... chiudi tu... chiudi... ciao... ciao... nein... 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 ok... ciao... ciao... ciao...